Rilanciare il CombiTour, il consorzio bisceglie turistica fondato nel 2003, è uno dei principali obiettivi della Confcommercio Bisceglie dopo lo stand-by registrato negli ultimi tempi per renderlo nuovamente attivo ed indispensabile nella crescita cittadina. A volerlo e a partecipare al progetto di rilancio moltissimi imprenditori ed operatori di settore che nei giorni scorsi hanno partecipato al briefing nella sala convegni delle vecchie segherie. Mastro Totaro, vediamo. Vogliamo rimetterci in gioco perché vogliamo nel ruolo che ricopriamo come associazione di rappresentanza rappresentare veramente quegli interessi degli operatori della ricettività che in qualche modo ci chiedono di essere protagonisti in un percorso di condivisione avvalendoci di professionisti importanti. L'amico Joseph è di qua amico perché ieri abbiamo avuto modo di visitare la città di Bisceglie e quindi si è anche creato questo bel rapporto di conoscenza ma anche di amicizia. Persona che comunque vive di progettazione, di programmazione, di marketing turistico territoriale facendo sleva anche sul rapporto che credo e ne sono certo l'amministrazione comunale in qualche modo deve sostenere. Se riusciamo a vincere questa sfida credo che potrà diventare questo un modello di vita per le altre città. Fondamentalmente dobbiamo partire da un concetto che il turismo è cambiato moltissimo negli ultimi anni e dobbiamo cambiare atteggiamento ovvero non più aspettare i turisti che ci arrivino magari grazie al buon Dio se non cominciare ad andare a cercare i turisti ma per cercare i turisti abbiamo bisogno, tutti i territori ma in particolare Bisceglie, di creare una proposta turistica, un prodotto turistico che risponda ai bisogni ma soprattutto alle nuove richieste dei turisti e questa è la chiave fondamentale per poter oggi vincere in questa sfida complessa che è quella del turismo.